Si è apparso ai discepoli sul lago di Genessare, te li hai salvati dal naufragio, vieni ancora accanto a noi, in mezzo alle tempeste del mondo, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù che salendo al Padre ci ha aperto la via del cielo, veglia su di noi pellegrini sulla terra, perché possiamo raggiungere la Patria Eterna. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Dio Onnipotente, creatore del cielo e della terra, che nella tua multiforme sapienza hai dato all'uomo ingegno e immaginazione per fabbricare nuovi mezzi di trasporto, fai che i conducenti di questo mezzo, nei vari percorsi di lavoro e di emergenza, operino sempre con verità e prudenza per la sovrezza e l'unità di tutti, e avvertono accanto a sé la tua presenza, per Cristo, nostro Signore. Amen. Gravive noi, o Padre, le sfide di quest'acqua benedetta, la risposta, la sovvia e i lati, e la sovrezza.